musica 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 arancia sono d'accordo c'è qualcosa che vorresti dire si fottiti troia no allora questo lo deve fare uno dei due quindi vai tu da o vado io che sto facendo il video e poi allora fammi tu il portale qua di farmi tu and it my destiny pokemon ah merda aspettano lì dovevi cambiare non devo andare lì io tu devi metterlo adesso adesso no no e poi qui da questa parte c'è un altro era così era ma dovevo andare via e andare lì voilà sticchio dai buttati 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 no non ce la so che morbido mi dovevo buttare no no non ci avrei fatta ma forse sì adesso torno indietro e ci riprovo no dai cerchiamo di far durare il video poco stavolta perché è stata davvero una cosa brutta se no allora io da qua non ti posso sparare un cacchio quindi cosa mi sparo io però posso mandare indietro il coso eh mandamelo ma cazzo vabbè comunque uno me lo devi mandare lì per prendermi nel mio caso no hai ragione hai ragione aspetta pof ok ti prendo e ti devi buttare tu sul tuo e farti portali vai pur se facessi così olle 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 mica sta arrivando si vai pokémon ok pokémon pokémon però che ci ci bloccano il video perchè ci ah è vero perchè ho messo la ragazzi lo sapete che sul video di team fortress mi hanno messo contenuti di terza e parti perchè ho messo la sigla dei pokémon alla fine eh 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 cioè c'è il copyright pure sulla sigla dei pokémon vabbè quello era ovvio però eh vabbè non proprio però da vabbè sti grandissimi cazzi tanto ho detto che sino a che non cambiano il metodo di copyright non mi fanno niente al video quindi PAM grande ghigno verso la webcam e in somalia siamo a 79 allora allora eh questo oh ciao questo oh 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 questo questo che ci terrò un attimino di più allora ma aspetta se poteva tornare ok ah dammi un attimo eh boh no ho sbagliato ok allora qua si faceva così devi piazzarne uno lì e uno lì ok e automaticamente sarà il contrario eh io la posso piazzare qua e dove lo metto però lì esatto è l'unico posto yes dopodichè io che fu ah devi andare su quel pulsante no mi lancio spero ok no mi lancio un cazzo sì vai vai lo puoi eh ma ma c'è il coso buttati qua mi butto qui aspetta fermo vai ma che non ti fai stronzate che hai ok puoi salire sopra qua e questo mi molla cosa mi molla ah mi molla quello e lì devo andare io se non mi sbaglio e aspetta un attimo sì devo andare io eh però adesso hai tolto tutto vedi eh infatti dovevo tolire tutto lasciami fare ci riesci da lì a spararlo pam ah ok basta ok uno stai fermo un attimo eh dovevo fartene uno qua poff e l'altro dove lo faccio boh mi mi ricordo che vedevi tu un punto di però devi prima andare da qua vai poi salti lì e ti faccio il coso che pro ragazzi che pro vai vieni pure ole pokémon ok 360 360 360 360 e portal gun così anche qua guarda eh pam 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 cazzo se sei pro sono sono un pro di tf è un pro di tf di minecraft ah 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 vedi vedi mi è venuto che bello siamo arrivati all'ottavo siamo arrivati all'ottavo siamo arrivati all'ottavo siamo arrivati all'ottavo questo era fantastico questo era fantastico lì dentro ci finisci tu Era bellissimo ragazzi Questa è la cosa più superba Che abbiamo visto Prometto e premetto Che cercherò di non dire il parolaccio Però Vi assicuro che è difficile Buttati che morbido Che bellezza Questo è fantastico Sì sì ho già paura Attenzione lì e lì Primi se non sbaglio Grazie Ora vedete quelle punte Io potrei distruggere Alex In qualsiasi momento Comunque ce n'è Aspetta un secondo Io sono davanti al pulsante Allora aspetta Appena te lo dico Tu mi risuchi Devi cambiarlo in viola È in viola è in arancione Ok Ok 1 2 3 Ora Ok ora ne hai uno sopra l'altro a testa No ragazzi questo livello è uno dei più belli della campagna incorporativa Adesso tu mi devi aiutare però perché Ne hai uno sopra di te Ne hai uno sopra di te Oppure lo mandi sotto Aspetta aspetta Mi devi Aspetta lascialo blu Lascialo blu Non posso lasciarlo Ok 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 adesso aspetta 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 Non ti non ti Se ti schiaccia non rido molto No ok Ora ne dovresti sapere uno so Mi mi son cagato Che culo Che comunque con lo rosso sto usando Aspetta un attimo Deve Si sincronizzarmi qualcosa Tu vai mi sincronizzo io Allora Vai pure Mi sincronizzo io Tranquillo Aspetta Aspetta che non ti vedo Aspetta no 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 Scendi giù Ora No Ora Ok Giusto in tempo Vai Ok Oh merda Adesso ne hai uno sopra la testa Aspetta aspetta Devi risucchiarmi Ok Non risucchio C'è su c'è su Scendi veloce Ok rifallo Ok Che culo Che culo Stai attento A parte che io neanche No adesso devo risuccharti per forza Si si no ma comincia ad andare anche così Ok Ok Lasci stare Allora appena io sparo Anzi facciamo così Tu vai spara Vai vai arancione vai 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 Ok E ora Finito così Mettimi il blu cortesia Manta Grazie Blu 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 Devo cercare di Ok penso di aver ucciso la torretta E ora Adesso mi prendo la torretta Adesso mi prendo la torretta La levo da qua E tu dovresti Prendi il cubo e puoi tornare Perché non c'è più il campo di forza Sì dovresti Viola Arancione Ce l'ho col viola Perché dovete sapere che Alex è dal tonico Quindi è dal tonico per finta però sbagli i colori davvero Quindi Non è un ragazzo difficile da capire Era uscita fuori anche la prima volta questa storia dell'alto Sì comunque scendinelli E mi passi il cubo Ok passa Blu 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 Tenti 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 E come da portare dall'altra parte Tu ce la fai risalire sì No Come no Eh se faccio così Vai Così non vedo l'altro Dove l'altro Ah Niente finito Due Uno Veloce Ce l'hai fa Ok scendi E fai Cussi Cussi e cussi No dallo a me Lo voglio io Ok io vado Fai come faccio io figliuolo Aiuto Ok No ho mancato il bersaglio Ma cazzo faccia mancare un cubo Vabbè Me lo devo mettere giusto giusto Non ce la fai Grandissimi Ok ce l'ho fatta Mi hai incastrato Io non ci credo Toglilo Leva Levate da lì No Si tornati indietro Per fortuna c'è ancora il mio Vai vai Bellissimo Ti ho visto piano piano Ho detto Questo qua cade da terra Cade giù da quel burrone Dai vieni qua Ok Congratulazioni Ok un ulteriore test Al di fuori di ritinere lo standard Ragazzi ci siamo L'ultimo test Credo Evitare questi gesti infatti Se te la fuori mi è venuta un gogo Ed eccoci qua L'ultimo test Signore e signori Aspetta No 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 Mi stava già spaventato Ti ho ricordi questo vero Si ma non era Ma andano lì Era un po' lungo Più che altro Si E l'altro lì Allora io ho usato il L'ultimo test E il viola Comunque potevi anche aspettarmi E notare le torre Simpaticissime che vengono prodotte Qua sotto No cosa vai Non era arrivato idiota Ma sei un'intelligentone cacchio L'hai fatta apposta bastardo Oddio Non pensavo mi cedessero Pensavo di arrivarci Danio Dove aspettare a tutti E due A tutti Andiamo Vai prima tu che così Io mi occupo Del trasporto Non ho sbagliato portale Mi... Aspetta credo Sì non ce ne sono Sì non c'è niente No non ho fatto un'idea Ma Ok Storre de' uccidere A me non mi avevano ancora ucciso Questa è da dire La stessa questo prenderà un po' più di tempo Perché Non me lo ricordo Perché siamo coglioni No è attento Allora Devo utilizzare Il blu Il blu Il blu Perché quace la foto L'azzurro Vai primo tentativo nel davvero adesso stiamo passando qua e qua il pieno di torrette o anche ok ok non ricordavo te lo giuro il tempo del giro un paio questo pezzettino che bello sto ridendo di glados ah guarda l'idea che la figlia all'opera ah adesso e poi qui che bello ok vai io ho fatto la mia parte toccate adesso ah Tom ci sta conoscenza andiamo assieme vai vieni perché tu devi piazzare i signori scuri non mi ricordo più dove è l'altro oddio mi ricordo vagamente che sopravvivevi anche senza scuri in questo pezzettino si però era un casino buttati qua io devo un attimino tu devi ah 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 aspetta c'era da mettere il portale no buttati anche tu qua c'era da mettere il portale lì c'era da mettere ok e poi ci dovevamo buttare qua giusto via si spera pronto oh dio pronto pronto a mettere gli scudi nel caso non mi ricordo più quale il tasto il blu il blu il blu l'azzurro il blu sicuro ma non è solo per il primo il blu vabbè dai mettilo lì sopra l'altro di uscita ok via verso una nuova avventura via dai questo testo è un po' più facilino degli altri ah no ma adesso c'è la parte incasinata no più che incasinata cristus si che era incasinata vedi ci sono le torrette lì aspetta allora se non mi sbaglio ok si era da qua no questi li mette voi aspetta questi li mette voi no li devo mettere anch'io se no le torrette ci picchiano allora andiamo assieme eh salta veloce giù più giù più no niente salta salta mi ricordo che avevo ah si me lo ricordo a posto io non me lo ricordo più dove lo dovevo sparare non ricordo perché l'avevo risolto io no aspetta buttare giù le torrette con il col fascio di energia per farle cadere hai ragione hai ragione vai fatta oh io devo aspetta oh attimo rosso ok ok ragazzi guardate che figata per questo ci abbiamo messo tipo 10 minuti a capirlo però alla fine ci abbiamo fatto adesso dovrei rimuovere e rimettere velocemente il coso appena arriviamo tutti e due vai via 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 eh con grande orgoglio possiamo dire di aver completato anche questa parte dov'era il cd no lo prendo io è là dietro mi sa oh lei ho preso il cd no non l'ho preso ora si che bel cd non lo mette non lo mette non lo mette non lo mette ci abbiamo fatto ragazzi abbiamo attivato il sistema vai aiutami a sfondare la porta ragazzi con la nostra distruzione noi vi diciamo ciao ciao eh ci vediamo al prossimo episodio ragazzi che sarà anche l'ultimo che sarà anche l'ultimo ciao a tutti ragazzi ciao ma non penso che nessuno mi fottesse qualcosa mandami mandami là dentro fammi importare che io mi ci lancio un po' se lo becco se non lo becco sarei responsabile della mia morte ok come hai fatto a seri lì sopra ah con questo ok 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 lo puoi che le fai